Si apre una nuova stagione al Teatro Miela che evidenzia sempre più la vocazione eclettica di una programmazione che abbraccia tutti i linguaggi performativi, dal teatro alla musica, alla danza, sino alla stand-up comedy e propone inedite contaminazioni multimediali con le arti visive. L'idea è sempre quella di fare del Miela un luogo di riferimento sempre più inclusivo, sempre più trasversale per pubblici di diversa generazione, creando una stagione eccentrica diversa da quelle tradizionali dove si mescolano discipline e linguaggi diversi dal teatro alla danza all'arte visiva creando delle contaminazioni sorprendenti in grado di coinvolgere il pubblico di qualsiasi età e di qualsiasi provenienza e anche a livello internazionale proporre una serie di spettacoli che possono essere fruiti senza barriera linguistica come per esempio tutta la rassegna del clownery che partirà alla fine di novembre e si svilupperà per tutto il periodo natalizio. Alto livello artistico, originalità, ironia e leggerezza sono le caratteristiche che accomunano nomi affermati come Raul Cremona, Enrico Bertolino, Paolo Nani, Marta Cuscuna, Gabriella Grayson e interpreti, autori e gruppi emergenti di nuova generazione come Arti Fragili, Emanuele Aldrovandi, Penelope Skinner, Mauro Pescio, Teatro La Fuffa, Peso Piuma, Massimiliano Loizzi. Comunque lo spirito fondamentale è proprio quello di cercare di costruire delle aree di interesse e di mescolare i linguaggi e mettere a contatto nuove generazioni di artisti con artisti affermati come Raul Cremona, Enrico Bertolino, Marta Cuscuna, tanto per citare solo alcuni dei nomi che saranno ospiti nella prossima stagione. Grazie a tutti.